Salve amici del Centro Meto Italiano, apice del caldo negli ultimi giorni della settimana. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 31 luglio. Tanto sole al mattino da nord a sud con innocui addensamenti solo sulle coste tirreniche centro-meridionali. Al pomeriggio nuvolo si dà in sviluppo sui rilievi con locali piogge o temporali possibili sulle Alpi, ampie schiarite su coste e pianure. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature stazionari o in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meto Italiano.